Speedy Nail Art Speedy Nail Art è l'azienda che oggi vado a descrivere con una delle sue due titolari che è Rosella Cerchi Sono entrata in questo mondo prima di tutto come cliente e quindi ho cercato di realizzare un'azienda sfruttando un pochino le cose negative che io avevo trovato negli altri centri La cosa principale è la velocità Noi siamo tante persone che lavorano nello stesso centro Il nostro slogan è essere sempre perfette anche senza appuntamento Speedy è anche inteso in questo senso Puoi fare il tuo trattamento anche giornalmente senza prenotarti Oggi quali sono i trattamenti che possono essere fatti all'interno di Speedy Nail Art? Noi ci occupiamo non solo di ricostruzioni unghie ma anche di estension ciglia Facciamo epilazione con il filo orientale per le sopracciglia e per i baffetti e anche per la peluria Spesso si pensa che la velocità non sia indice di qualità Noi abbiamo eliminato i tempi utilizzando dei prodotti che velocizzano la ricostruzione Utilizzare un primer che asciuga all'aria ad esempio, non acido Quindi quello riduce tanto i tempi perché non dobbiamo polimerizzare Utilizzare un lucido, un finish che non abbia dispersione Ci sono dei piccoli accorgimenti che noi utilizziamo proprio con il prodotto stesso L'azienda ha scelto Diamond Nails Che cosa presenta l'azienda e quali sono le sue caratteristiche di successo per i prodotti? Abbiamo testato e abbiamo scelto questa azienda ungherese I prodotti sono di origine sia ungherese che americana Il punto forte della nostra azienda è il semipermanente Loro hanno intanto una vasta gamma di questi prodotti Tantissimi colori, tantissime gradazioni di colore Ed hanno un one step Praticamente noi possiamo applicare del colore sulle unghie Come se stessimo facendo una manicure Quindi già con quello, con dieci minuti, è una manicure impeccabile Dura anche più di quindici giorni Giulia, entriamo nel vivo dei prodotti Diamond Nails Con quali linee e quali peculiarità? Allora, le peculiarità di questo marchio sono due linee fondamentali Abbiamo la linea fiberglass e la linea competition Entrambe due linee che facilitano il lavoro in una maniera estrema Perché sono autolivellanti anche avendo una densità medio alta o altissima addirittura La linea fiber è importante perché contenendo fibre di vetro al suo interno Garantisce un'adesione massima Soprattutto su quelle unghie problematiche come possono essere le onicofaggiche Con una concentrazione idrolipidica maggiore rispetto alla percentuale naturale di ognuno E garantiscono anche un'extra tenuta soprattutto sulle extra lunghezze Gel fiberglass Abbiamo il clear e abbiamo il pink Ovviamente il pink è consigliato sugli allungamenti del letto Per accentuare appunto l'allungamento del letto con il cover e per intensificare il rosa naturale Ovviamente la clear può essere utilizzata per le coperture O anche tranquillamente sugli allungamenti del letto ungueale Per dare un'extra brillantezza La seconda linea che è la competition Che può essere utilizzata per i lavori da salone Quelli che utilizzano le clienti Ovviamente che non portano extra lunghezze Ma non vogliono comunque rinunciare ad una mano curata Ad una lunghezza minima Ed è garantita assolutamente nella velocità del lavoro Dalla linea competition Che ha una densità alta, altissima Non cola, non brucia Ed è caratterizzata dalla componente violacea Che va a neutralizzare il giallognolo Che si può formare su una copertura trasparente Come è utilizzata sul French Quindi annulla la componente gialla Ma resta trasparente e brillante E poi fondamentale per ogni unico tecnica Per ogni centro che si rispetti Per ogni tecnica che ama il suo lavoro Il French White Gel Ovviamente anche questo extra denso White Al massimo proprio del bianco Che ci può essere Biancogesso Non cola Si può utilizzare tranquillamente sugli allungamenti Senza necessità di fare l'allungamento con il clear Una volta effettuato l'allungamento del lettungueale Si passa tranquillamente al French White Scegliete Speedy Nail Arts tra tutti perché? Intanto siamo simpatiche Questo è vero Perché siamo un'azienda Siamo un franchising Possiamo distribuire il marchio Speedy Nails Ce l'abbiamo noi in esclusiva E abbiamo il nostro marchio di prodotti Diamond Nails in esclusiva www.speedynailsart.com Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima